ma bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video oggi ragazzi vabbè già parto col dire che ragazzi la live non riesco a farla ho scaricato due app inutili che mi chiedono cose che poi sono inutili cioè ora dinti immaginatevi una schermata ciao sono lilli live e voglio fare la live con te sto sparando a caso però prima devo accedere al tuo accanto va bene ho fatto già tutto ma è arrivata già l'email e di tutto quanto mi chiede tutt'altro cioè non è che mi chiede tutt'altro cioè ho fatto tutti gli accessi tranquilli e dopo non me la fa fare la live madonna cosa stavo facendo anzi cosa ho fatto no veloci che prima maria il pugno ecco anche se cado di sotto però me lo merito perché ho giurato che facevo la live poi vabbè mi faccio punire dalla roccia che non mi ha punito abbastanza vabbè lasciamo stare ragazzi vabbè fate finta che questa sia una live infatti sto registrando va bene dal mare però ragazzi veramente sono dispiaciuto che non posso fare la live cioè ci tenevo anch'io ma ragazzi ma perché sono spettatore di... no no ho sbagliato ho sbagliato mi voglio far rompere la salute mentale rovinare la salute mentale da questi qua che hanno l'emoticon traiardano e tutta quindi direi di giocare da soli per il tempo del caricamento volevamo parlarvi io sono un collaboratore delle Nico News un nuovo format che verrà implementato nei prossimi giorni che parla di skin e mappe che potrebbero essere aggiunte nel gioco leak che sono stati trovati naturalmente da me io sono la ponte le spedisco a Nico Nico farà questo format prossimamente nei prossimi giorni quando ho più tempo perché adesso... basta no ragazzi mi stanno sbagliando negli orecchi mi stanno dando fastidio no oh oddio raga sto laggando però tanto vabbè tanto l'abbiamo persa ma mai una volta che vinciamo raga sto laggando vabbè ragazzi adesso entro in lobby da loro ci vediamo quando siamo dentro eccoci ragazzi siamo entrati in lobby aiuto non mi do spaventare sono venuti già ad assaltare allora vabbè solo perché sono uno youtuber tutti ad assaltarmi lontani allora volevo dire tanto siamo al sole perché il sole pure mi deve rovinare i video vabbè no volevo dire qua non mi si vede manco ma vabbè perché sto in piedi invece di mettermi seduta ecco qua siamo più o meno seduti e ragazzi aiuto questi qua già parto con l'aggo oh signori no va bene sono volato dall'altra parte del mondo ma va bene ancora a laggare no sto scherzando sono io che scivolo non ho non ho i guanto non ho i come si chiama le scarpe anti scivolo basta con ste palle di neve e cado di sotto peggio del meme del piccione quando cade di sotto da un balcone di 20 metri vabbè intanto chi è aiuto raga sta l'accanto ok lasciamo ma va bene ci siamo qualificati lo stesso non so cosa cavolo sia successo ma lasciamo stare volevo dire no mi sono già dimenticato quello che vi ma quanto ping sto a 50 come fa la gara vabbè lasciamo stare anzi io so furbo metto la webcam da questa parte così posso osservare il ping se fa l'infame io ragazzi mi sono qualificato come sedicesimo che sfortuna stavo per avere io secondo salame 307 questo qua no scamo vuoi uscire dalla lobby per favore questo qua è primo al mondo praticamente ok over and under cioè sto qua è forte in tutto lasciamo stare dopo vi presento a tutti non fate assalto non fate l'assalto al camionista ok e venire dopo ok no ok ciao scamorza ragazzi ritornate dietro intanto sto ancora laggando non posso togliere lo ah no what the non si dicono né parolacce in inglese né in italiano ma che cavolo va bene lasciamo stare d'arche e seba che è questo pinguino aspetta voglio fare la cosa stupida ma non è un pinguino eh io lo chiamo pinguino è un panda per me tutti gli animali sono pinguini perché c'ho l'occhio pinguino ah dove stai ti voglio aspettare chi è ok no vabbè ok d'arche e seba vabbè siete tutti qualificati chi è che sei cinque sei sei eccomi qua io sono qualificato ok vabbè non ci interessa nessuno parlate uno alla volta parlate uno alla volta ma c'entra la volpe allora ragazzi già vi consiglio di mettervi tutti la perché dopo vi spiego buttatelo fuori ma tu sei peggio di Lorella in caso non sa chi è Lorella è uno che praticamente dice cosa a caso ma completamente a caso è proprio stupido ragazzi purtroppo io purtroppo non mi sono riuscito ad entrare nel gruppo perché hanno scartato prima di me queste brutte persone e niente raga cos'è successo raga e nico ti metterà il buco più piccolo di Stamol Dice si ma io sono saltato l'hai visto c'è ma quelli sono dettaglini bellini allora ho capito cosa volevi dire ragazzi lasciate un dislike al suo canale youtube che si chiama anche se non ce l'ho però nico ha detto scamorza nico ma lui mi sono rotto veramente le scatole di scamorza nico ha detto scamorza ma no no raga basta ragazzi scamorza è uno che tiene 1947 vittorie non è vero dai vero secondo ma ragazzi no io veramente non gioco più con voi al massimo giochiamo con noi con noi ma buttiamo fuori scamorza senza scamorza parlate una alla volta vi smazzuro tutti senza scamorza allora un attimo ragazzi che risolvo la situazione ragazzi innanzitutto bene mi è comparso uno dietro lui è il mio assistente youtuber vabbè lasciamo stare ragazzi adesso è arrivato il momento di mostrarvi i miei amici del mare tutta youtube a tutta youtube quello là è morto questa è l'altra tutto quanto basta dire cosa a caso aiuto assalto al camionista adesso aiuto adesso ricominciamo la live del gameplay ma la live vabbè ho messo la webcam grande così vi mostriamo tutti no ragazzi ma gioco così con la webcam no assalto al camionista lasciamo stare mi levo qua ragazzi un attimo che devo risolvere che si sono smistati tutti ok ragazzi un attimo ho risolto tutto sto facendo una partita con il mio assistente di youtube che sarebbe insomma si chiama raffaele insomma va bene è perché tu sei maggiore quindi posso dire il tuo nome vabbè lasciamo stare vabbè gli altri erano i miei amici del mare ma non so ok ragazzi lasciamo stare ragazzi stanno aiuto abbiamo la come mappa jungle roll posso fare una bella cosa? una mappa carina godo ma no adesso non ti guardano più vabbè no non si dicono ste cose un attimo ragazzi devo fare un attimo devo stoppare il video perché ho poca memoria del tablet quindi ho paura che 8 minuti di registrazione ti rompi tutto un attimo ragazzi che stacco sto video come si fa è rotto non si stacca cioè ma se fosse così anche con la live che non è che in questo momento tipo sto facendo la live ma allo stesso tempo facendo un video non lo so no in caso non si può fare un attimo ah si può fare ah basta parlare io faccio il giro turistico ragazzi ci vediamo ci vediamo alla fine del giro turistico ok ragazzi ho finito di fare il giro turistico tutti quanti pronti a qualificarsi ma io mi sono buttato e sono uscito assistente a youtube a fianco a me e gli altri dietro e non dietro a fianco a me che stanno aspettando innanzitutto tu già guardarti mi fai arrabbiare perché quello là che fra yard sta tutto il giro va bene intanto questi qua sono tutti fortissimi vediamo la mappa adesso ma poi ragazzi sono fortissimi ragazzi vi devo spiegare una cosa sotto la mappa cioè in super slide ho aspettato uno che è finito che si è qualificato e poi c'erano le nuvole sotto l'acqua sticcavoli rocket trumble vediamo in che squadra siamo allora sicuramente tu sei nei blu io sono nei blu c'è un torneo che inizia a 3 secondi come un torneo che inizia a 3 secondi va bene vai vai ragazzi spero di qualificarmi perché voglio arrivare in finale e fare la mia 280esima cosa lo so eh lo sanno già tutti non ho mai idea no 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 ancora ho completato la via no ma arrivano tutti ma mi fanno no aspetta voglio fare una triple voilà triple eh niente bella no prima kill ma questi qua manco mi prendono ma 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 non ho lasciato da solo ma bene sono stupido va bene lasciamo stare ok ragazzi ci vediamo quando siamo qualificati ragazzi ok ragazzi ci siamo qualificati bella la finale però è anche stata faticosa perché i miei compagni di squadra mi stavano uccidendo perfettamente perfettamente giusto ok ok ho fatto il record speriamo che nei prossimi aggiornamenti levino il fuoco amico mi spiegherò io mi spiegherò no io qua sbaglio sempre no non è vero attenzione allora vediamo ok ragazzi siamo primi però ho paura di sbagliare attenzione no vai veloce vai veloce fortunatamente il tempismo è stato abbastanza perfetto ok ok perfect timing perfetti ragazzi io intanto no no ce lo fai io intanto non sto parlando perché mi devo concentrare ti serve una seconda no dai no però questo caso qua non lo ha mai scritto anche sulla fronte cambiosino eccolo eccolo perfetto attenzione perché potrebbe esserci le 280 vittorie le 280 sono 280 ma non ti dà la vittoria va bene belli molto belli no ragazzi ma io mi sto di averleggiato il 280 non dimmi che ho gufato già ce l'avevi ragazzi ragazzi se ho gufato mi ammazzo ragazzi già ce l'aveva che avevo fatto un troll ok non so che ho finito male no gufate no ragazzi guardate no 98 no ho rotto tutto aiuta ragazzi mi stanno inseguendo perché ho gufato perché ho gufato aiuta ragazzi aiuta mi stanno aiuta ragazzi ci vediamo in un prossimo video lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanellina ragazzi Danico è tutto aiuta out iscrivetevi al canale